Una verifica di tutto, del lavoro che stiamo, come avete notato, stiamo anche cambiando un po' il sistema di gioco, però al di là di questo credo che c'è un coinvolgimento di tutto in maniera molto entusiasmante. Credo bene, oggi c'è stata una verifica importante ma al di là di questo la cosa che mi è piaciuta di più è il saper stare sul campo. Abbiamo dei giocatori che stanno crescendo e credo che avremo anche a disposizione un'altra settimana per poter lavorare bene, per poter anche affrontare delle partite un po' più difficili, in una maniera che piace a me. Un difensore o due, adesso vediamo, è un attaccante. La società sta lavorando bene, però dobbiamo sfortire anche la rosa, dicendo un po' tanto. Io credo che ad Avellino si sta bene, però è anche giusto che qualcuno vada a giocare. Una soluzione in più, poi non è un 4-3 ma è un 4-1-4-1, in cui si trasforma con il 4-4-3. Una soluzione in più, una situazione in più dove ci sono dei giocatori con caratteristiche importanti che vanno, secondo me, aiutate. Bella Unione è un giocatore che può fare benissimo. Lo stesso Molina, che tra l'altro credo che sta dimostrando tutto il suo valore. Ma io penso un po' tutti, insomma, in questo caso. È un'atternativa di più. Sono uno che dico quello che penso. Il giocatore, se Vellino è una piazza importante, se il mare non c'è da Vellino, c'è a Napoli il mare. A Vellino ci sono posti anche turistici da visitare, come Montemarano, come Monteverge. Se non piace, vada da un'altra parte. Un giocatore rifiuta da Vellino, non vuol venire, vuol dire che non piace da Vellino. Ma al di là di questo, io cerco in tutte le maniere di trovare dei giocatori con grande motivazione. Se vengono, vengono, se no sono a casa loro. Io voglio ottenere qualcosa di più importante, così i calciatori serve da stimolo, che credo che sia un fattore naturale. La mia società mi sta dando due per ogni ruolo, e come avete notato, Rizzato, Falasco, lo stesso Elgolino, lo stesso Laverone. C'è già un anteggiamento, c'è già una partecipazione diversa, perché se uno pensa di essere solo due titolari è finito.